Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare, a fare l'analisi, a fare le pagelle della partita che si è giocata oggi alle 11 tra la Juventus Primavera e l'Ascoli. Ascoli, squadra ultima in classifica, quindi avversario alla portata è la Juventus, la Juventus che ha fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti, è stata molto propositiva, ha schiacciato l'Ascoli nella sua metà campo, Ascoli che ha provato a reagire, fino al settantesimo non è morto l'Ascoli, ha cercato di fare del suo meglio, ma la superioreità della Juventus è emersa lungo tutti i 90 minuti e alla fine il risultato è un netto 5-0. La Juve che continua a piacermi nella Juventus Primavera soprattutto per il gioco, per la costruzione dal basso molto corretta, molto precisa, fino ad arrivare a degli scambi, dei triangoli in attacco molto rapidi, abilità nel giocare nello stretto, insomma un calcio molto propositivo, un calcio molto moderno, insomma molto bene sta facendo un grande lavoro l'allenatore Bonatti. Detto questo andrei alle pagelle, quindi analizzare i singoli. Allora, per quanto riguarda il portiere, cioè Garofani, gli do 6 perché alla fine non è stato chiamato a grandi interventi, le pochissime volte che è stato chiamato in causa è stato puntuale, ha risposto presente, tuttavia non interventi a Chelsea, quindi un 6, restazione sufficiente. Venendo invece ai terzini, allora, Mulazzi, il terzino destro, per me oggi è da 7, ha fatto un'ottima partita, bene in fase difensiva e benissimo in fase di spinta, sempre propositivo, molte sovrapposizioni, molte combinazioni con i suoi compagni, insomma, ottima partita da parte di Mulazzi, al quale do 7, già mi era piaciuto nella partita contro Milan, oggi anche sfruttando la presenza di un avversario meno ostico, si è fatto trovare pronto in fase offensiva, ha fatto molto bene. Poi, mentre invece il terzio sinistro che intende anche un giocatore che ho già detto che io adoro, però che oggi non mi ha stupito, ecco diciamo, ha fatto una partita a parer mio da 6, è stato molto meno propositivo del solito in fase offensiva, tuttavia non ha avuto sbavature, è stato puntuale come sempre, alla fine gli do un 6. Veniamo ai difensori centrali, allora, c'è il capitano Riccio, ottima partita, grande personalità da parte di questo ragazzo, anche nell'eludere pressing a volte degli attaccanti, sempre anche elegante nel portare il pallone, fa le scelte giuste, in difesa quel che ha dovuto fare l'ho fatto bene, 6 e mezzo. Invece l'altro centrale, gli voglio dare un voto più alto, The Winter, gli do 7 perché ha fatto veramente un'altra grande partita, l'ennesima grande partita, è veramente un giocatore per il quale stravedo, vedo un futuro roseo per lui, per il belga, perché è stato molto bravo come sempre in fase difensiva, ottimo nelle chiusure, in fase di impostazione, grandissima personalità, anche quando si ritrova per qualche motivo a giocarne lo stretto, è sempre preciso, lucido, davvero un giocatore nel quale credo molto. Poi, per quanto riguarda invece il centrocampo, partiamo dagli esterni, allora, c'è Ilin Junior che oggi mi è piaciuto particolarmente, già le altre volte mi è piaciuto, ma oggi è stato molto bravo, molto propositivo, si è guadagnato il rigore per il gol del 2-0 realizzato da Baranecea, e salta l'uomo con una grandissima facilità, veramente un giocatore talentuoso, deve aumentare un po' di più nella concretezza, nella lucidità, nelle scelte quando si trova in avanti, però tuttavia lo voglio premiare con un 7 perché oggi mi è piaciuto davvero tanto. L'altro esterno invece è Souley, giocatore estremamente tecnico, l'argentino, che ha fatto vedere qualche ottimo sprazzo di qualità, però oggi è stato poco concreto, nonostante avesse gli spazi per poter concretizzare di più, arrivare magari anche al tiro, fare anche l'ultimo passaggio, quindi oggi non mi ha stupito per me il suo 6, anche se è un giocatore molto interessante, che nella partita contro me mi è piaciuto sicuramente di più, è stato anche decisivo con l'asse di Spardagraca nell'altra partita. Quindi, avveniamo al centrocampista di centrali, e qui allora c'è Baranecea, al quale do un 6,5 perché ha fatto una partita, tutto sommato, in normale amministrazione, nulla di incredibile, ma ha segnato il rigore del 2-0, voglio anche premiare questo perché i rigori bisogna anche segnarli, quindi alla fine gli do un 6,5. L'altro centrocampista centrale, anche questa volta, gli do 8 come 8 il suo numero di maglia, Miretti, veramente strepitoso, punizione meravigliosa, un capolavoro, il gol dell'1-0, ha fatto delle azioni personali straordinarie, crea occasioni all'ultimo passaggio, è il faro del centrocampo, insomma, è un giocatore che è ancora lì, cioè, io lo voglio vedere già nell'Under 23, assolutamente, anche se è già esordito, è già stato, ha già fatto anche, ha già fatto anche vedere qualcosa di buono, anche nell'Under 23, però è un giocatore che, secondo me, nella primavera, cioè, nella primavera, sta facendo troppo bene per stan, cioè, appunto, non deve rimanere nella primavera, deve già andare, salire, fa andare nell'Under 23, magari, in prima squadra, magari anche qualche spezzone, perché comunque è un giocatore che ha un talento straordinario, non a caso, la rivista The Guardian, come ho già detto anche l'altra volta, l'ho inserito nei 60 migliori, 2003 più talentuosi, e quindi, cioè, come ho già detto, in Italia, siamo indietro, con i giovani, bisogna avere una progettualità migliore per valorizzarli, e dall'altra parte bisogna anche cercare di non metterli troppo a pressione, e bisogna cambiare proprio la cultura riguardo la crescita dei giovani del calcio italiano, e seguire un po' di più quello che stanno facendo, soprattutto in Inghilterra e in Germania. Ok, quindi a Fabio Meretti da 8, poi verrei ai due attaccanti, allora, da Graca per me prende 6,5, ha sbagliato qualcosa, è vero, ma è comunque il punto di riferimento davanti della Juventus, ha fatto anche un gol, cioè ha fatto anche un bel gol, alla fine mi sento di dargli 6,5. L'altro attaccante, invece, Bonetti, qui gli do 5,5, facciamo 5,5, perché è stato poco incisivo davanti alla porta, ha fatto degli errori, ha fatto più errori, ha sbagliato anche nel secondo tempo, davanti alla porta era completamente solo davanti al portiere, ha fatto il pallonetto di fatto passando il pallone al portiere, peccando un po' di presunzione lì, e invece ha fatto molto meglio quando nel finale, con i cambi, è stato schierato a centrocampo, e lì mi ha soppreso davvero tanto, perché a centrocampo comunque ha gestito bene i palloni, ha fatto bene. Tuttavia, la prova nel complesso per il mio non è sufficiente, quindi 5,5. I subentrati. Allora, Omic ha fatto, centrocampista ex Salisburgo, ha fatto anche un assist, è entrato bene, con cattiveria, mi è piaciuto molto, 6,5. Poi, Sekularak, lo svizzero, che non è Sekulum, è Sekularak, un altro, lo svizzero, che è un esterno, che è entrato con molta voglia, con la voglia di dire la sua in questa partita, ha puntato l'uomo ogni volta quando è stato possibile, ha fatto molti dribbling, molti dribbling sono andati a buon fine, creava lo spazio, la superiorità numerica, ed è arrivato anche al gol. Quindi, Sekularak per me ha fatto un'ottima partita quando è subentrato, è entrato con lo spirito giusto, per me il suo 7. È entrato anche Cotter, che ha fatto, diciamo, non ha strafatto, ha fatto il possibile, non ha fatto errori, ma non ha neanche fatto cose eccelse, gli do 6. Invece Cherry, l'enorme centravanti, è entrato, si è fatto vedere molto davanti, un punto di riferimento per la manovra, ed è anche riuscito a trovare un gol, cioè in realtà è un autogol, perché ha calciato, ha colpito il pallo e poi il pallone è rimbalzato sul difensore dell'Ascoli e è finito in rette, quindi in realtà è un autogol, però moralmente si può attribuire il gol a Cherry, perché è fondamentalmente merito suo. Mi è piaciuto, gli do un 6,5. E infine Sekulov che è entrato 10 minuti, ha provato a proporsi, non ha concretizzato molto, comunque è stato propositivo, alla fine gli do 6. Quindi nel complesso i voti abbastanza alti, quindi una grande partita da parte da Juventus Primavera, prossima settimana ci sarà lo scontro contro la Capolista, cioè la Sampdoria, una partita che sarà davvero molto interessante. Detto questo, per questo video può essere tutto, vi invito ad andare su Twitch nel canale Cost2Cost che tengo insieme ad altri tre miei amici, abbiamo fatto una live ieri sera dove abbiamo parlato a 360 gradi sia della Champions che di Juventus, Milan e Inter che trattiamo in modo particolare, insomma tanti argomenti, anche i consigli del Fanta Calcio, quindi vi invito ad andarci a seguire su Twitch. Detto questo, ciao a tutti, e ci vediamo in un prossimo video.